Ciao, Babi. Ciao. Ciao, Silvano. Ciao, Babi. Allora, grazie a tutti. Grazie a tutti al primo appuntamento pubblico, anche se in forma virtuale, dell'Osservatorio sull'Unione Europea che abbiamo costituito con Transform, con tanti altri illustri personaggi che ne sanno molto di più dell'Europa e con noi condividono l'idea che serve, sia necessario opportuno guardare a quello spazio per capire anche le dinamiche che succedono nel nostro Paese e per capire un po' qual è lo scenario, l'evoluzione che ha l'economia globale e la società italiana ed europea. Per questo oggi abbiamo organizzato questo primo incontro, a questo seguiranno anche altri con più magari frequenza e con una maggiore puntualità e per oggi abbiamo con noi Franco Russo che ha organizzato questo primo incontro e cui do direttamente la parola. Prego, Franco. Grazie mille. Dato che siamo presenti nella riunione a 10-11 persone, poi spero che invece su Facebook siamo un po' di più, ma nonostante questo ho proposto a Roberto Morea, ma forse se ne è dimenticato comunque di dedicare anche un nostro pensiero ai due lavoratori, alla lavoratrice e al lavoratore morto, uno a Prato e l'altro a Bustarsizio, perché continuano queste tragedie sul lavoro e nessuno di noi credo sia insensibile a questi avvenimenti drammatici. Ecco, quindi è un pensiero che penso che tutti quanti noi condividiamo e non per, diciamo così, per retorica. Mi pare giusto averlo ricordato, avevamo deciso appunto con Roberto di farlo. Io mi sono assegnato non più di 15 minuti, quindi avendo l'orologio davanti spero di non superarli, però vi chiederei, essendo il primo incontro dell'osservatorio, di darmi alcuni minuti in più per spiegare come noi vorremmo muoverci almeno su questi incontri pubblici. L'osservatorio, come dice la parola, appunto è semplicemente uno scambio di informazioni, di idee, di commenti, molto libero ovviamente fra i critici dell'Unione Europea, cioè che non si accontentano dell'esistente. E anche questi incontri, secondo me, non sono tanto per comunicarci, passarci delle idee belle, consolidate, ma sono un elemento di ricerca, quindi con tutto il rispetto che opera i seminari universitari, ovviamente non è come qui delle specificazioni delle lezioni, per cui l'assistente aiuta a comprendere quel che il professore dice, ma al contrario invece mettiamo in discussione le idee che noi abbiamo intorno all'Unione Europea. questo è, diciamo, il punto più generale di tenere sempre presente, quindi lo spazio è aperto davvero e non abbiamo delle verità in tasca, ma semplicemente però siamo critici e su questa base della critica vogliamo appunto vedere di approfondire, modificare o influenzare le idee altrui. La seconda premessa invece è mia personale, nel senso che siccome dalla mia introduzione verterà molto su una serie di proposizioni avanzate da esponenti dei gruppi dirigenti dell'Unione Europea, vorrei semplicemente spiegare perché io ritengo che le, diciamo così, le affermazioni degli esponenti delle classi dirigenti, in questo caso della classe dirigente dell'Unione Europea, contano e io penso che sarebbe bene per tutti coloro che affrontano l'esame, l'analisi critica, la descrizione o la valutazione dei fatti sociali di far proprio la teoria degli speech acts, cioè degli atti linguistici, perché secondo me questo aiuta molto a comprendere, non dico a facilitare, ma sicuramente a comprendere gli avvenimenti, gli eventi, lo svolgersi dei fatti storico-sociali, economico-sociali e istituzionali. E vorrei far solo quattro richiami e poi passo invece alla sostanza di quel che volevo dire. Uno, per me, quando parlo di teoria degli speech acts, degli atti linguistici, mi riferisco alla distinzione fra brute facts e istituzionali, fra fratti brutali, come diceva la ASCOM, e fatti istituzionali. Quindi i fatti istituzionali si distinguono da, diciamo così, da quelli analizzati dalle scienze, dalle scienze forti, come si suol dire. La seconda punto di riferimento è la scuola storica di Cambridge, di Skinner, per cui i discorsi sono delle cose, nel senso che orientano, determinano, formano il senso comune. Quindi un discorso non è solo, diciamo così, flatus vocis, ma è un atto che condiziona il comportamento degli altri. E la terza affermazione, molto brutale, come vedete, è proprio quella di Austin, il linguista, il cui titolo del libro, come vi ricorderete, dice come far cose con le parole. E l'ultimo punto, invece, conclusivo è che, secondo me, bisogna intendere, nell'esaminare gli avvenimenti sociali, storici, istituzionali, bisogna intendere come pratiche sociali. Quindi come pratiche che non possono essere, diciamo così, viste con una loro oggettività esterna ai soggetti agenti. Detto questo, sia pur con molta, diciamo, rozzezza, ma spero di aver dato almeno l'idea di quali sono i miei punti di riferimento nel preparare questa introduzione, passo appunto ad alcune proposizioni. Cioè, la prima è un'affermazione di Draghi che è contenuta nella premessa del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, PNRR. Nella mia edizione, cioè la prima, a pagina 14, dice Draghi, c'è con il Next Generation EU, c'è un cambiamento epocale per l'Unione Europea, non solo per la quantità del denaro, cioè 750 miliardi di cui 390 in in sonvenzione, ma perché, questa è un'altra citazione, un'altra affermazione di Draghi, questa volta il 27 di aprile del 2011 in replica al Senato, il PNRR, dice Draghi, è una nuova stagione di politica fiscale, di politica del bilancio a livello europeo verso una politica fiscale comune a patto che si realizzano i PNRR. La terza proposizione che vorrei commentare è fatta invece dal presidente dell'Eurogruppo, Pascal Don Ho, che dice l'accordo sul RRF, cioè sul Recovery Resilience Fund, è un attraversamento simbolico del rubicone per l'Unione Europea. E perché è un attraversamento simbolico? Perché appunto per la prima volta sia pure parzialmente e finalizzato al Recovery Fund, c'è la mutualizzazione del debito. E la quarta affermazione, dice Draghi sempre al Senato, il 27 aprile, il PNRR è una nuova stagione di politica fiscale, di politica del bilancio a livello europeo, questa volta, verso una politica fiscale comune. L'ultima affermazione che vorrei commentare è questa. è sempre di Don Ho, il 21 di aprile, dice che prima di quest'anno sarebbe stato impensabile avere un riferimento a un'integrazione, una speranza, a un'integrazione più profonda come risultato di questa crisi. Questa affermazione ha spinto me e condivisa poi dai due Roberto a mettere nella macchetta un riferimento a Monet, perché appunto, dice Monet, l'Unione Europea, allora chiamava l'Europa, sarebbe stato il frutto delle sue crisi. Come vedete, questa affermazione che secondo me ha guidato l'intera costruzione europea dal 1950 in poi, si ritrova pari pari dentro l'affermazione del Presidente dell'Eurogruppo. Ora, perché queste affermazioni, queste cinque affermazioni, secondo me sono particolarmente importanti? Intanto, per come dicevo prima, per il semplice motivo che, come dire, formano, indicano, diciamo così, le intenzioni che hanno le classi dirigenti dell'Unione Europea, determinano o provano a determinare il senso comune, cioè il senso con cui deve essere interpretato i loro atti, e perché secondo me, i provvedimenti che sono stati presi dal 2020 ad oggi, dimostrano che noi stiamo vivendo, dimostrano che noi stiamo vivendo, l'ha detto Papi in un suo recente scritto, un Hamiltonian moment, un momento al-miltoniano. Che cosa intendo io per momento hamiltoniano? Anzi, io, diciamo, storicamente, che cosa si intende per momento hamiltoniano? È il momento in cui, a livello federale, gli Stati Uniti hanno assunto i debiti dei vari stati che avevano contratto e hanno assunto, quindi, la responsabilità del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale a livello federale. Quindi è stato un momento di centralizzazione dei poteri statali e, diciamo così, l'avvio appunto del debito pubblico comune. Ora, a me pare che le decisioni prese dall'Unione Europea, e qui veniamo affatti invece, cioè per un verso con il recovery fund e per l'altro invece con il cosiddetto sure, cioè a dire i sostegni finanziari dati agli Stati per venire incontro per attenuare, dice appunto, i rischi di disoccupazione e dell'emergenza e della povertà, testimoniano appunto che non completamente, ma secondo me, si è avviato, e io lo condivido questa valutazione, si è avviato appunto questo momento hamiltoniano, cioè a dire il fatto che l'Unione Europea fa un salto di qualità nella gestione delle politiche di bilancio consentendo, e qui sono le altre decisioni prese dall'Unione Europea nell'ultimo anno, vorrei ricordarvele, cioè a dire nel marzo del 2020, il 20 di marzo, la Commissione attivò la clausa di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. Alcuni giorni dopo, il 23 marzo, questo lo citamente, ma l'Ecofin su impulso della Commissione deliberò il temporary framework relativo agli aiuti di Stato per l'epidemia Covid-19 e da allora in poi noi abbiamo avuto una sequela, diciamo, di provvedimenti a livello nazionale di tutti i vari Stati dei 27 Paesi dell'Unione Europea che appunto hanno dato via libera a decine, anche centinaia e centinaia di miliardi per quanto riguarda le sonvenzioni per il lavoro dipendente, le sonvenzioni per il lavoro autonomo, le garanzie dei crediti per quanto riguarda le imprese e in più le sonvenzioni dirette alle imprese. Quindi noi abbiamo avuto anche una svolta rispetto alle politiche di bilancio, quelle che gli inglesi chiamano la fiscal policy, per cui siamo passati da provvedimenti di austerità, di vincoli di bilancio dettati non solo dal patto di stabilità ma con tutte le sue modifiche nel 2011 e nel 2013, di six packs e two packs. Noi abbiamo avuto invece una svolta, secondo me, sostanziale, non voglio dire epocale, per quanto riguarda la politica fiscale, cioè non si praticano più politiche di austerità, di contenimento del bilancio dello Stato, si va in deficit per far cosa? Si va in deficit per, e qui se ritrovo una citazione di Draghi, ma se no ve la dico a mente, sempre nella sua premessa al recovery fund italiano, al PNRR italiano, dice Draghi, noi dobbiamo far avanzare la concorrenza e quanto più facciamo avanzare un regime di concorrenza, tanto più dobbiamo provvedere anche a supporti sociali per evitare appunto che si scatenino delle tensioni all'interno dei vari Stati. La strumentazione che appunto si stanno dando gli Stati europei non è tanto di politiche fiscali, di politica di bilancio per venire incontro a bisogni sociali, per venire incontro quindi a quello che invece inizialmente, o per lo meno per quel che ricordo io, che ho capito io, erano, diciamo così, le cosiddette politiche keynesiane, invece ci sono vasti investimenti, per un verso ovviamente per contenere le tensioni sociali e per l'altro, l'ho anche ricordato in un articolo che vi ho mandato, ci sono una serie di strumentazioni finanziarie da parte dell'Unione Europea precedenti anche allo scoppio della pandemia, ma che non sono state per niente, diciamo così, modificate nel corso della pandemia nel corso di quest'anno, che vanno sotto il nome delle varie alleanze, dalle materie prime alle batterie, invece ai finanziamenti per quanto riguarda la ricerca su materiali e su nuove tecnologie dei cosiddetti CEI, quindi l'Unione Europea si è dotata di alcuni strumenti perché la, diciamo così, la spina dorsale della sua economia, che è la manifattura, potesse fare un salto tecnologico, un salto di paradigma tecnologico e per l'altro ovviamente si è dotato in questo specifico anno di strumenti per venire incontro appunto a bisogni sociali nel senso di contemperare la selezione che sicuramente ci sarà, non solo per alleviare in questo momento, ma la selezione ci sarà delle imprese e quindi per alleviare i processi di disoccupazione, di riformazione della forza lavoro e via dicendo. E quindi qui vengono avanti i grandi temi che l'Unione Europea sta, diciamo, progettando e realizzando che sono la grande transizione energetica, la transizione digitale, la e-mobility che comportano appunto dei salti di paradigmi tecnologici. L'ultima parte vorrei dedicarla per quanto ne siano io competente, anzi essendoci qui le persone molto più esperte di me potranno aiutarmi o correggermi, visto lo spirito con cui ci muoviamo, anche la politica della BCE, perché è indubbiamente vero, come anche ho ritrovato in un bel volume, sempre se lo ritrovo nei miei appunti, di Schlosser, sì ho detto bene, per Schlosser, Europe's New Fiscal Union, che è uscito non più di due anni fa, in cui certamente Schlosser dice la BCE già con i provvedimenti 2012-2015, quando fu varato il quantitative easing nel 2015 e precedentemente tutti i vari strumenti che la BCE si era dato, cioè l'LTRO, il TRLTRO, con tutte le sigle inglesi e le OMT, con tutte queste strumentazioni finanziarie, è vero che la BCE era già diventata prestatore di ultima istanza per quanto riguarda le banche commerciali e anche perché già comprava titoli pubblici sul mercato secondario, però è qui, secondo me, la svolta che in questo momento la BCE ha compiuto con il suo ultimo, con il suo PAPP, cioè la Pandemic Emergency Purchase Programme, questo nuovo programma che appunto non è che è una svolta radicale nei suoi strumenti, però si accompagna, e qui cito Schlosser, al fatto che va da un regime in cui c'era un dominio monetario, e cioè dire che la BCE si curava anche intervenendo magari fornendo liquidità alle banche commerciali o comprando titoli pubblici per garantire la stabilità della moneta, la stabilità finanziaria, oggi in verità la BCE compie questi stessi atti in un contesto in cui la politica fiscale è completamente cambiata, perché come prima ricordavi appunto è inattivo ormai in tutti gli stati le politiche di sostegno alla domanda, soprattutto alla domanda di investimenti. Quindi cambia il contesto e noi abbiamo, come dice Schlosser, una fiscal dominance. Io credo che le classi dirigenti europee, sto concludendo, siano oggi, siano in grado e stanno dimostrando di essere in grado di controllare la crisi sociale, prima ancora che economica, indotta dalla pandemia con il loro provvedimento e sono in grado in questa crisi di portare avanti una politica di rinnovamento complessivo, soprattutto della parte manifatturiera dell'economia europea e quindi di sollecitare di promuovere il salto di paradigma tecnologico. Questa è la parte pessimistica della mia considerazione. La parte, diciamo così, di speranza è che comunque, anche attraverso queste politiche che promuovono un salto di paradigma tecnologico, di rinnovamento anche istituzionale, perché la strumentazione che si sta dando è di accentramento anche delle politiche fiscali che stanno mettendo in piedi. Basta vedere appunto la metodologia come è stabilito dal regolamento dei piani di resilienza e ripresa, in cui c'è al centro la commissione e la sua strumentazione tecnocratica. La mia però considerazione di speranza è che nonostante questa capacità di risposta, le classi dirigenti europee non riusciranno né a evitare, diciamo così, né di sanare, né di evitare l'approfondirsi della crisi ecologica, né penso tantomeno saranno in grado di venire incontro alle disuguaglianze sociali e di sanare appunto tutte le ineguaglianze che ci sono all'interno della società capitalistica. Certo, da parte nostra, chi vuole appunto avere un'alternativa di sinistra, i tempi sono sempre più duri perché già appunto esaminare e aver chiaro, aver il coraggio di affrontare laicamente di come le classi dirigenti stanno rispondendo alla crisi pandemica, alla crisi economico-sociale indotta dalla globalizzazione dei mercati con la competizione fra le varie aree. Certo, ripeto, dallo sgomento però dobbiamo anche essere certi che questo non toglie appunto l'incapacità che essi hanno di risolvere, non guidati dal profitto, i problemi che la società umana ha in questo momento. Non a caso abbiamo scelto appunto di dare la parola a Roberto Morea che spiegherà perché appunto le due relazioni sono state impostate in questo modo. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato chiaro almeno nell'esposizione del mio pensiero. Grazie, grazie tanto Franco. Come anticipava adesso Franco, ci stanno degli elementi che abbiamo chiesto che vengono affrontati in maniera diciamo un po' più approfondita con due relazioni introduttive e poi avere un po' uno scambio tra di noi. Il primo percorso che si apre in questi giorni, che è il 7 maggio, inizierà il suo cammino è il futuro dell'Europa, la conferenza che le istituzioni europee nel loro insieme hanno costruito per immaginare un po' anche per legittimare le scelte che secondo noi almeno con una carenza di democrazia possiamo dire stanno assumendo con un sistema intergovernativo di accordo tra i leaders e i governi nazionali. Il ruolo del Parlamento sappiamo essere molto debole e come diceva adesso Franco i soldi verranno spesi per una transizione che in realtà non sappiamo poi quanto impatterà veramente nella capacità di controllare e ristabilire un equilibrio con l'ambiente e con il genere umano. Per questo abbiamo chiesto a Paola Boffo che collabora con noi con Transform Italia ormai da due anni di appunto inquadrare un po' le istituzioni, il percorso, come si muove e come vengono fatte le scelte dell'Unione Europea a livello istituzionale e poi a Silvano Falocco con il rapporto appunto tra imprese, finanza e ambiente. la prima relazione, a Paola la parola, chiedo anche a lei di stare dentro i 15 minuti per poter avere poi un po' di spazio per una discussione tra tutti. Paola, prego. Grazie Roberto e allora ringrazio Transform, ringrazio l'Osservatorio Europa per aver organizzato questo incontro, questa discussione. Sono stata sollecitata con un intervento dal titolo come sta cambiando lui qualche riflessione. Naturalmente è una cosa molto grande, molto importante, quindi io in realtà mi limiterei a qualche riflessione appunto specifica. Devo dire più, non tanto dal punto di vista istituzionale in senso stretto, cioè delle funzioni dei vari organi, ma più che altro appunto sui temi che ha già accennato Franco Russo, ha anticipato alcune delle cose che avrei voluto dire, quindi questa cosa ci farà risparmiare anche un po' di tempo. Più che altro sulla costituzione economica, se così si può dire, diciamo, dell'Unione. Come sta cambiando l'Europa? Come cambia l'Europa dipende moltissimo naturalmente dall'approccio che l'Unione intraprende in tutti i suoi movimenti, in tutte le sue politiche, che è sempre abbastanza un divaco a seconda delle fasi storiche, direi, fra la prevalenza degli stati, dell'azione degli stati e quella invece più orientata all'Unione vera e propria, alla comunità, come si chiamava una volta. e questo si vede intanto su alcuni temi come per esempio quello che ci ha occupato per più di un anno nel 2019, direi, intorno alla famigerata riforma del MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, su cui comunque, diciamo, ci siamo concentrati parecchio, che è un trattato internazionale, un trattato intergovernativo, non è un organo dell'Unione Europea. E poi invece la tensione, più o meno forte, a seconda dei cicli, verso invece un'Unione, un'Unione, quindi un'Unione fiscale, un'Unione anche di bilancio, che consenta di intervenire a livello europeo per le politiche che interessano tutti gli europei, tutti i cittadini. Allora, io volevo, faccio riferimento a alcuni appunti che ho preso naturalmente, perché volevo fare anche qualche riferimento specifico. A proposito del Next Generation EU, sappiamo che ormai siamo, diciamo, nella fase finale, più o meno, nel senso che il 30 aprile è caduta la data in cui tutti i paesi che volessero farlo dovevano presentare i cosiddetti recovery plan, programmi nazionali per la ripresa e la resilienza. E però non abbiamo ancora la sicurezza, diciamo, la certezza che poi questa iniziativa sia effettivamente fattibile, perché la capacità della Commissione di poter agire su mercati dei capitali per indebitarsi, per vendere titoli e quindi raccogliere i 750 miliardi di cui è stata autorizzata appunto a provvedere per finanziare la ripresa e la resilienza, passa per un passaggio parlamentare di tutti i Stati membri. essendo la parte che riguarda appunto la capacità di approvvigionarsi sul mercato dei capitali e quella che è riportata insomma nella decisione del dicembre 2020 in cui la Commissione, l'Unione, può avvalersi di risorse proprie che in questo caso, questa volta, non si riferiscono soltanto al bilancio dell'Unione Europea, ma anche appunto alla capacità di approvvigionarsi sul mercato e quindi di indebitarsi attraverso un debito comune, questa circostanza, diciamo, deve essere ratificata da parte di tutti i Parlamenti. questi, quasi tutti i Parlamenti hanno ratificato, c'è stato un importante blocco per qualche settimana in Germania, poiché c'è stato un ricorso da parte di un gruppo di estrema destra che si chiama Volontà dei cittadini, in tedesco non lo dico, che aveva fatto ricorso appunto perché, soprattutto, perché la decisione sulle risorse proprie prevede che nel caso in cui, quando si tratterà di rimborsare questi debiti che la Commissione ha assunto e che dovranno essere rimborsati, diciamo male che vada, lo dico dopo perché, sulla base del contributo di ciascuno degli Stati al bilancio dell'Unione, nel caso in cui un Paese fosse ancora in difficoltà e non potesse fra fronte a questo debito, la Commissione dovrebbe rivolgersi agli altri Stati per poter garantire appunto il rimborso del debito. Questa cosa è stata considerata contrastante con la Costituzione tedesca, insomma è stato fatto questo ricorso, però la Corte Costituzionale il 15 aprile ha deciso invece che la cosa invece non fosse contrario appunto alla Costituzione e quindi si potesse procedere e quindi la Germania ha ratificato la decisione dell'Unione il 29 aprile scorso. A questo punto, ad oggi, diciamo, ci sono ancora alcuni Stati che non hanno ratificato. L'Estonia, l'Irlanda, l'Ungheria, l'Olanda, l'Austria, la Polonia, la Romania e la Finlandia. Va detto che però alcuni di questi paesi hanno già presentato il loro recovery plan, quindi si suppone che invece accettino, diciamo, che l'Unione Europea si doti di questi strumenti e quindi avvii questa iniziativa. Infatti l'Irlanda non ha ancora ratificato, ma ha presentato il piano, così come l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Finlandia. Se tutti i paesi ratificheranno entro l'estate, la Commissione potrà fare il suo piano di finanziamento e quindi iniziare ad approvvigionarsi di risorse sul mercato. E' stato già detto che nel momento in cui è esplosa la pandemia, diciamo non proprio nel momento in cui è esplosa, che in realtà ha colpito prima di tutto l'Italia, come ci ricordiamo, la Commissione dopo qualche momento, diciamo così, di incertezza, comunque ha intrapreso una serie di iniziative a contrasto. Si trattava di iniziative che la Commissione poteva intraprendere a parità di bilancio, e cioè sulla base del bilancio 2014-2020, non avendo il potere naturalmente di attivare ulteriori risorse. Fra le iniziative sono state già citate, diciamo che fra le più importanti sono l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dal patto di stabilità e l'introduzione di un nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, a parte le altre che sono state menzionate, ma è ritorno. Queste iniziative quindi hanno consentito di ampliare appunto la capacità fiscale degli Stati e hanno aperto la possibilità per i Paesi di indebitarsi e di far fronte quindi alla necessità di finanziare le imprese, quindi superando gli ostacoli posti dalla disciplina sugli aiuti di Stato, per chiederci la necessità di finanziare per esempio imprese che dovessero produrre dispositivi di protezione individuale, respiratori, ciò ricordiamo, è passato poco più di un anno, e di intraprendere tutte le misure necessarie a sostegno del lavoratore e delle famiglie che si trovavano in difficoltà a causa della sospensione delle imprese del lavoro, insomma dovuto al confinamento. L'altra cosa importante è appunto che la capacità dei Paesi di indebitarsi è stata sostenuta dalla Banca Centrale Europea che ha impegnato ad oggi fino a 1850 miliardi per poter acquistare titoli e quindi finanziando il debito degli Stati tenendo basso lo spread sul mercato dei capitali e che un'iniziativa che andrà avanti almeno fino a marzo 2022 e in ogni caso appunto fino alla fine del 2023 la riduzione del portafoglio dei titoli statali sarà comunque gestita in modo graduale la riduzione di questo portafoglio per non interferire con le necessità della politica monetaria. quindi la Commissione si è mossa e anche la BCE a parità di bilancio però è stato subito evidente che questo non era necessario non era sufficiente scusate e quindi ci sono dovute intraprendere queste iniziative innovative che hanno portato dopo un lunghissimo negoziato che ha visto il contrapporsi di due gruppi di Stati sostanzialmente da un lato Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Austria i cosiddetti frugal force e dall'altro lato Spagna, Italia, Grecia, Francia che sostenevano invece il fatto per esempio che non si dovesse ricorrere a un finanziamento basato soltanto su prestiti ma anche su risorse a fondo perduto e quindi soltanto alla fine di questo durissimo negoziato nel luglio del 2020 i Paesi sono riusciti a raggiungere un accordo politico per l'istituzione di questo Next Generation EU piano per la ripresa e la resilienza europea bisogna dire che questo strumento comporta una importante redistribuzione tra gli Stati membri perché opera secondo il bisogno dei Paesi che sono più in difficoltà e però operando in un certo senso un trasferimento tra i Paesi diciamo più ricchi e i Paesi che si trovano più in difficoltà e questo dipende dai criteri sulla base dei quali si allocano le risorse soprattutto il Resilience and Facility insomma lo strumento finanziario che sostiene i piani di recupero e di ripresa questo è stato già detto vorrei ritornare richiamare l'attenzione comunque di tutti sul fatto che nel dicembre del 2017 facciamo un passo indietro dopo sulla base della cosiddetta relazione dei cinque presidenti e dell'impegno preso da Presidente Juncker della Commissione per l'approfondimento dell'Unione Economica e Monetaria dell'Europa l'Unione appunto aveva preso la Commissione e aveva presentato una tabella di marcia per il miglioramento appunto dell'Unione Economica e Monetaria composta da tutta una serie di misure che avrebbero dovuto essere adottate e concretizzarsi nei successivi 18 mesi fino a giugno 2019 in realtà la roadmap proposta dalla Commissione che prevedeva tra l'altro per esempio la riforma del MES prevedeva l'istituzione di un ministro delle finanze europeo la definizione di un fondo monetario europeo la costituzione di un fondo per la riassicurazione della disoccupazione cioè quello che poi effettivamente è stato realizzato come Shur in questa circostanza non ha avuto in realtà un seguito ci sono state contraste non c'è stato poi un accordo politico per portare avanti tutte queste iniziative l'unica cosa che si è concretizzata parzialmente è stata appunto il 27 gennaio 2021 la sottoscrizione dell'accordo degli atti modificativi del trattato del MES e del trattato relativo al fondo di risoluzione unico soltanto per la parte appunto che garantisce un sostegno comune al fondo di risoluzione unico delle banche mediante una linea di credito che entra in atto in campo diciamo già nel 2022 con due anni in anticipo rispetto a quello che era previsto ma quello su cui voglio richiamare attenzione è che fra le numerose proposte appunto che erano state fatti dalla commissione c'era una proposta di regolamento per stabilire la governance di un strumento di bilancio per la convergenza e la competitività il Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness detto BIC per essere più sintetici che era finalizzato a sostenere le politiche strutturali degli stati e gli investimenti pubblici questa proposta intendeva definire degli orientamenti strategici per le priorità di riforma nell'Unione e che prevede del fatto che si assumessero degli orientamenti specifici per paese i quali per tutti i stati membri i quali dovevano essere coerenti con le raccomandazioni specifiche per paese adottate nell'ambito del semestre europeo su questa base quindi i paesi avrebbero dovuto definire dei pacchetti di riforme e investimenti da finanziare con sulla base diciamo di una valutazione dell'aerogruppe su proposta della commissione allora esattamente mi sembra la logica che è stata messa in atto adesso per contrastare la crisi da coronavirus e cioè questo strumento che era stato ideato per reagire a a sciocche economici che non si sarebbe potuto affrontare a livello di singolo paese è stato invece avviato con Next Generation EU e cioè vincendo appunto la resistenza di tutti i stati membri che fino ad allora non avevano voluto intraprendere questa strada soltanto di fronte a questa crisi gravissima che ha messo a repentaglio oltre che tante vite umane anche la sopravvivenza stessa dell'Unione questo BIC in una delle discussioni avvenute nel Consiglio era stato oggetto tra l'altro di un'opinione da parte della Banca Centrale Europea nella quale Draghi che all'epoca era il presidente della BCE insisteva sul fatto che al di là dello strumento specifico si dovevano definire delle modalità per istituire una funzione di stabilizzazione macroeconomica che ancora non è presente nell'area dell'euro allora anche Franco prima ha fatto riferimento ad alcune affermazioni dichiarazioni di Draghi nei vari sia al vertice euro sia al senato lui continua a dire a proposito del vertice euro che era riunito per discutere del ruolo internazionale dell'euro dice sì parliamo dell'euro ma se non c'è un debito comunitario emesso a fronte di un bilancio dell'unione non andiamo a nessuna parte sostanzialmente sì Next Generation EU è una sorta di euro bond ma bisogna vedere se si tratta di un'iniziativa unica sintetica cioè temporanea scusate oppure di una cosa che avrà un seguito sostanzialmente allora su questo secondo me oltre diciamo cioè intanto voglio dire appunto è un'iniziativa che è stata presa nel 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 caso della crisi gravissima che ci siamo trovati di fronte ma è un'iniziativa che rientra in un disegno che era già esistente e che diciamo alcune delle forze che sono quelle che si muovono più verso la comunità verso l'unione piuttosto che sulla discussione fra gli stati quindi il tavolo come dire intergovernativo intendono portare avanti perché si parla molto anche per le circostanze dell'autonomia strategica dell'unione anche in termini di politica industriale sui vaccini ma su tanti altri settori ma è evidente che l'autonomia strategica non può prescindere da una capacità fiscale autonoma che finanzi un bilancio comune voglio soltanto citare un recente non paper condiviso fra Spagna e Olanda ho capito fra Spagna e Olanda che mentre si trovavano su due fronti contrapposti durante tutto il negoziato per il recovery adesso invece hanno fatto insieme questa iniziativa a sostegno con 13 punti che esorta i stati membri a mantenere le loro economie aperte in un momento in cui lui cerca di rendersi indipendente da altre potenze mondiali come Stati Uniti e Cina su questo ovviamente ci sarebbe molto da discutere però intanto diciamo si crea comunque una un'alleanza abbastanza inedita che in una fase in cui con la Merkel che si ritira dalla scena politica e Macron che è più concentrato su su questioni interne può aprire diciamo degli scenari nuovi grazie Paola per aver rispettato scrupolosamente i tempi grazie a voi scherzi e do subito la parola a Silvano Falocco non introduco come ho già fatto prima però per dargli ancora più spazio vi chiedo però di rispettare i 15 minuti per non avere spazio di discussione io te ne ho detti 20-25 no 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 15 minuti va bene no no però ci siamo non coordinati bene no va bene ci mancherebbe altro nei tempi di facebook cioè lui sta nei tempi della treccana no allora ci mancherebbe altro faccio un po' di asserzioni un po' trancianti diciamo non solo per il tempo anche un po' per l'argomentazione per per suscitare un po' di dibattito a mio avviso uno degli errori che possiamo in cui possiamo incorrere in questo periodo è quello di non ricordarci che tutta la progettazione delle politiche per il Green Deal è antecedente alle questioni relative alla pandemia cioè il documento in verità è del dicembre 2019 i lavori sono molto antecedenti e ricomprende all'interno azioni relative azioni climatiche investimenti sostenibili economia circolare agricoltura infrastrutture sostenibili tutto questo è stato attualmente connotato anche dal fatto di aver transitato la pandemia e quindi probabilmente di essere un'operazione che aiuta l'Europa ad uscire dalla crisi pandemica cioè la crisi economica che deriva dalla pandemia ma ci dobbiamo ricordare che tutto questo avveniva prima perché secondo me questo è uno degli elementi chiavi da cui dobbiamo partire cioè che dobbiamo prendere in considerazione non va perso di vista altrimenti i recovery plan da questo punto di vista un po' ci depistano lo dico perché nel ragionamento che tento di fare parto proprio dal fatto che nel corso di questi anni sono stati lanciati al mercato cioè alle imprese al mondo delle imprese da parte di chi magari da parte del pubblico tra di noi c'è uno degli autori del lancio di questi messaggi dal pubblico alle imprese cioè Riccardo Rifici attraverso gli appalti pubblici e i criteri ambientali all'interno degli appalti era stato lanciato è stato lanciato un segnale alle imprese e al mercato che la situazione doveva cambiare doveva cambiare perché il pubblico avrebbe tenuto conto dei criteri ambientali e sociali al momento degli appalti ma che questo era necessario per la sopravvivenza delle stesse imprese ora vedendo la difficoltà del recepimento di questo messaggio dobbiamo pensare che i vari attori intermediati dagli organismi dalle associazioni dagli enti che conosciamo che fanno da mediatori di queste comunicazioni li interpretano a volte anche le respingono questi orientamenti questo messaggio non è arrivato bene cioè non è arrivato a chi doveva arrivare che i problemi ambientali che abbiamo davanti sono talmente rilevanti da mettere in discussione la redditività e la sopravvivenza delle imprese che è un segnale che dovrebbe riguardare le imprese a prescindere dal pianeta mette in sopravvivenza mette in difficoltà la loro capacità di sopravvivenza quindi noi abbiamo avuto nel corso di questi ultimi anni tutta una serie di segnali che hanno aumentato la loro scala sempre lanciati al mercato di coalizioni magari di imprese che hanno iniziato a dire guardate che alcuni temi bisogna di alcuni temi bisogna tenerne conto tenerne conto non per il pianeta temo e credo tenerne conto perché mettono in discussione perché il capitale naturale è realmente alla base della produzione della ricchezza quindi se ci fu se ci sfugge questo elemento poi ci sfugge il fatto che se manca quello è che trasformi trasformi poco quindi una serie di iniziative che hanno messo a volte volontarie che hanno messo in campo le imprese a volte grandi hanno riguardato ad esempio tutto l'elemento delle dichiarazioni non finanziarie a partire dal 2014 e con il nuovo progetto di direttiva per quale ragione uno dovrebbe chiedere alle imprese dacci conto attraverso le dichiarazioni non finanziarie del tuo comportamento che normalmente viene rendicontato attraverso standard relativa al rapporto con l'ambiente ai reflui all'utilizzo dell'acqua alla biodiversità per quale ragione uno dovrebbe tenerne conto volontariamente qual è la ragione e questo ormai è dal 2014 c'è un gruppo ovviamente di imprese che ha iniziato a dire se non è obbligatorio ma noi facciamo parte di quelli che lo fanno che rendono conto della nostra attività a qualcuno al mercato all'istituzione agli stakeholders agli azionisti però rendiamo conto del nostro comportamento sull'ambiente secondo tutta l'economia circolare a volte siamo noi che prendiamo troppo per buone delle coalizioni una è la fondazione L.M. Carthur è composta da grandi imprese grandi imprese globali cioè BlackRock Danone Ikea Unilever Solvay cioè sono grandi organizzazioni di imprese globali Philips questi hanno lanciato attraverso la fondazione L.M. Carter tutto un programma sull'economia circolare fatto di documenti indicatori eh piani d'azione iniziative per quale ragione perché ovviamente l'elemento relativo alla disponibilità delle risorse naturali in particolare ma non solo delle terre rare è un elemento chiave le terre rare ovviamente i minerali ehm diciamo è chiave perché l'economia va nella direzione del digitale e del green e quindi servono quei diciassette elementi che in Europa non ci sono che in gran parte del mondo non ci sono sono allocati in poche aree del pianeta tra cui la principale ma non l'unica è la Cina quindi una coalizione autonoma di imprese relativa all'economia circolare che ha iniziato a dire io faccio iniziative non solo cambio il paradigma siamo noi a prenderlo per buono quel cambiamento io ogni tanto discuto ma sono questioni di lana caprina me ne rendo conto che l'economia circolare non esiste ma non esiste lo dico non esiste non esiste per motivi termodinamici non esiste è una metafora che significa utilizziamo maggiormente eh materiali che vengono da processi di recupero e riciclo ma l'economia ehm perché soggetta alle leggi della natura e in particolare della termodinamica non è circolare su questo ovviamente il cambio il famoso cambio di paradigma che è quello paventato da L. MacArthur è evidente che è meglio utilizzare materiali che vengono dal riciclo ci mancherebbe altro ma non c'è nessun nessun paradigma che consente di distrarsi dal fatto che la crescita economica e il mancato coordinamento delle imprese su questo che nel capitalismo è la base del capitalismo porta invece al consumo eccessivo e alla distruzione delle risorse e alla distruzione della natura altre iniziative ci sono quelle sulla biodiversità ma ce n'è una eh quella su cui ovviamente mi sono più soffermato eh quella relativa alla finanza e clima che noi dobbiamo capire bene quali sono i suoi connotati perché se la sottovalutiamo e poi compiamo degli errori uno basta prendere il documento è un diciamo un paper il numero 608 del 2021 eh fatto da Banca d'Italia tutto su banche centrali rischi climatici e finanza perché uno dei problemi è che i rischi ambientali e quelli climatici portano a riduzione di produttività e capitale punto questo ovviamente crea problemi e crea molte preoccupazioni in ambito finanziario assicurativo nei fondi di investimento per la tenuta eh per la capacità di restituire eh i prestiti per gli investimenti eh riduce la disponibilità di energia di terra le aumenta le perdite su crediti cioè è un elemento che va preso sul serio dal lato economico noi dobbiamo dire non è interessante solo l'economia ma lo dobbiamo prendere sul serio dal lato economico quella attenzione che il documento ha ma tutti i documenti delle banche centrali hanno eh relativa alla gestione dei rischi e quella la dobbiamo conoscere cioè chi si occupa di questi temi ti dice che guarda che i rischi ambientali i rischi fisici e i rischi di transizione collegati in particolare al cambiamento climatico dove i rischi fisici sono quelli che derivano sono di tipo acuto di tipo cronico o la dipendenza dal capitale naturale perché è quella ovviamente quando cambiano le carte in tavola le risorse che ti servono per mettere in moto un processo produttivo non è detto che tu ce l'abbia le stesse condizioni nelle stesse modalità rischi ambientali per ciò che tu impatti i rischi di transizione che è difficile valutare ma sono uno dei temi della finanza ovvero ho davanti un soggetto che sta andando nella direzione giusta cioè che intercetta le politiche pubbliche che domani cambieranno il quadro cambieranno il perimetro entro il quale si svolge la concorrenza oppure no sei sottoposto a rischi tecnologici o di reputazione che derivano dal tuo comportamento in relazione all'ambiente oppure no allora a mio avviso siccome non hanno funzionato per come dovevano funzionare i segnali che il pubblico ha lanciato alle imprese per cambiare le proprie matrici produttive tenendo conto degli aspetti ambientali non è stata così efficace quella quella serie di alleanze e coalizioni tra imprese globali che invece sono preoccupate sono molto preoccupate per la diciamo il proprio i propri business plan e la propria capacità di redditività e il proprio patrimonio e quindi sono obbligate ad agire e quindi la finanza come cervello del capitalismo di centralizzazione delle decisioni ovviamente fa capire a tutti quello che gli altri non capiscono cioè fatichi a capirlo è la finanza che te lo fa capire e quello che succederà non è come noi pensiamo niente cioè è tutto come prima non succederà nulla perché il capitalismo è sempre uguale a stesso e non lo è mai e quindi i documenti i regolamenti cioè il 2088 del 2019 l'852 del 2020 segnano una svolta che secondo me va ben interpretata innanzitutto per i 70 settori che sono stati individuati suddivisi per le sette categorie di intervento cioè agricoltura manifattura elettricità e gas acqua rifiuti e depurazione trasporti comunicazione informazione costruzioni sette categorie che hanno 70 settori in ognuno di questi 70 settori viene regolamentato in un qualche modo e questa regolamentazione che in verità riguarda il settore finanziario e assicurativo darà ci dirà se quelle attività sono finanziabili ovvero sono considerati come investimenti sostenibili e quindi capace di essere redditivi nel tempo oppure no oppure se sono pericolosi se non sono redditivi se ad esempio avranno magari domani una specializzazione di fondi che sono avranno dei tassi di interesse magari sugli investimenti più elevato però qualcosa cambia cambia in relazione a questi sei obiettivi che sono stati definiti all'interno della tassonomia ambientale come obiettivi chiave cioè adattamento climatico mitigazione climatica economia circolare e prevenzione dei rifiuti acque e gestione delle acque biodiversità e emissioni atmosferiche su questi sei obiettivi il modo in cui si muove la tassonomia noi possiamo dire non ci piace anzi io lo dico magari è sotto le nostre aspettative è differente da quello che ci aspettiamo ma qualche cosa cambia cioè cambierà il gioco per davvero interverrà sul Mifid 2 e quindi sulle condizioni che ogni soggetto economico avrà quando si presenta allo sportello o in un istituto di credito per chiedere il finanziamento di una propria attività come no se cambia cambia quindi a mio avviso noi dobbiamo essere in grado prendo solo anche solo due minuti di dosare il nostra la nostra strategia che secondo me deve essere non su questo so che c'è molto di senso ma soprattutto con degli amici diciamo cioè non la prima cosa non dicendo che è una sola operazione di greenwashing come se questo ci tutelasse a dire e resta tutto come prima è solo greenwashing quindi quello che produrrà sono dei bollini finti circa la sostenibilità degli investimenti e noi dobbiamo reagire dicendo che questa è una grande operazione di greenwashing punto la seconda invece che ha una sua diciamo una sua verità che è quella sostenendo che questa operazione non tutela il pianeta ovviamente perché non è pensata per il pianeta è pensata per un altro scopo diciamo per segnalare quali sono quegli investimenti relativamente a certi elementi che normalmente non sono sotto controllo perché noi controlliamo i flussi di moneta ma non i flussi di scambio con la natura e quindi siccome non ce l'abbiamo sotto controllo se non abbiamo un sistema che permette di rendicontarli non li conosciamo noi però possiamo dire cosa vera che l'operazione non tutela il pianeta per quattro motivi ovviamente sono motivi che implicano pure noi il primo è che tra efficienza relativa per ogni singolo settore di attività economica per ogni singolo processo produttivo quello che prevede la tassonomia ambientale anche quando tu sei ecoefficiente in modo relativo questa ecoefficienza non è detto che porti a un miglioramento ambientale non è affatto detto secondo perché la somma di tutte queste decisioni individuali da parte delle imprese non garantisce nulla ci sono degli effetti di scala ci sono disallineamenti tra le economie regionali nel mondo e quindi non è che sono tutti uguali i punti di partenza sono uguali e possono rimanere gli squilibri esistenti tutto questo porta alla necessità di cooperazione altrimenti si mantengono gli squilibri che esistono oggi il terzo elemento apre questioni sempre nell'ambito il sostenere perché questa operazione non tutela il pianeta perché il rapporto tra bisogni diritti e capacità è un argomento hard per tutti pure per noi quindi parlare dei diritti lo fanno in tanti Lanusbaum Cocchian da poco cioè si possono fare in tanti modi però questo è uno dei nodi in ultimo perché le scelte che ci sono dentro cioè ad esempio la scelta del gas come energia di transizione o le ambiguità sul nucleare è evidente che non permettono di utilizzare il pianeta in ultimo e qua ho finito a mio avviso noi lo sforzo che dobbiamo fare visto che per ricamare il ballo di screpanti diciamo il capitalismo è un ballerino che non sta mai fermo siccome balla sempre e allora noi dobbiamo essere in grado di entrare su quel terreno capendo quello che succederà perché succederà qualche cosa non possiamo limitarci ogni volta a dire le nostre parole sono state conquistate dall'avversario perché così è per definizione se le mangia e dopodiché noi dobbiamo stare sui temi altrimenti rischiamo di correre appresso a una nuova semantica che ogni volta slitta perché se prendono pure quella ma non è la battaglia nostra dobbiamo capire come la tutela del pianeta e il fatto che là veramente c'è un problema è la giustizia sociale perché quei settori non finanziabili sono posti di lavoro progetti di riconversione capire che cos'è che serve cioè entrare dentro il cosa come per chi nella produzione e su questo dovrebbe avere un ruolo anche il sindacato che invece su questi temi è stato molto in ritardo e quindi non ha intercettato così come hanno fatto quegli altri organismi di mediazione il cambiamento che era in corso dovremmo fare in modo che la giustizia ambientale cioè quella che è rivolta al pianeta ma rivolta anche ai conflitti ambientali locali e la giustizia sociale rivolta a quelle persone che perderanno il lavoro perché le attività dove oggi lavoro non sono finanziabili perché gli interventi le attività sono eccessivamente impattanti dobbiamo capire come fanno a stare assieme una grande era di conflitto scusate il comizio che il tono solo è sbagliato assolutamente appropriato invece bene io penso che adesso possiamo anche fare un giro tra di noi vedere chi vuole intervenire può alzare la mano o segnalarlo sulla chat chiaramente interventi a questo punto saranno limitati alle 5 minuti in modo da dare spazio a tutti anche perché le conclusioni invece di tre quarti d'ora un'oretta aspettano a Roberto Musacchio che come leader massimo ci terrà occupati per per tutta la serata alle 9 l'obiettivo di Morea è non farmi vedere la Roma questa per chi non lo capisce questo è il sottinteso di questa battuta perché è laziale vorrei dire prego allora molto brevemente scusandomi con i presenti perché purtroppo ho un appuntamento quindi non potrò sentire le conclusioni di Roberto che mi rimanderà comunque per iscritto in modo che le veda scusate per questo a me sembra che la formula organizzata sia molto utile perché la socializzazione delle informazioni a questo punto è determinante c'è una catena narrativa che individualmente non si riesce a seguire io sono stato un anno e mezzo al ministero del lavoro praticamente tutto il ministero non c'era una sola persona che sapesse che cosa stava succedendo con un minimo di precisione e anche di impegno su questo punto e quindi vedo che questo tavolo anche in forma di messaggio funziona si riesce a ricostruire diciamo sul momento quello che accade e quindi questo lo consiglio prezioso e direi che dovremmo diciamo senz'altro proseguire su questa regna io faccio una breve osservazione diciamo per quanto riguarda gli interventi le relazioni che condivido di Franco di Paola che riguardano più l'aspetto istituzionale cioè non vi è alcun dubbio che c'è una prefigurazione come diceva Franco di cambio di paradigma e le misure di austerity si chiamano recovery measures anche dal punto di vista puramente diciamo linguistico qui siamo a recovery senza e le measures sono ben diverse da quelle dell'austerity e tra i diciamo le significative dichiarazioni che diceva Franco aggiungerei quella dichiarazione che ci ha mandato oggi Roberto della van der Leyen all'istituto europeo che insomma è molto forte perché il centro di questo intervento sono avvenute in questi mesi cose che solo poco tempo fa erano impensabili e cita il fatto che meno male l'Unione Europea cercherà 750 miliardi sul mercato e quindi attivando diciamo un meccanismo che prima era certamente non era stato attivato questo cambio di paradigma è certamente ancora diciamo non incerto dalle conclusioni incerte non abbiamo nessuna dichiarazione per cui questo cambio realizzato con recovery debba andare al sistema però c'è diciamo la prefigurazione di un percorso anche dal punto di vista democratico basta diciamo approfondire queste tensioni al cambiamento e si arriva grossomodo a un'idea di una interlagliatura istituzionale e costituzionale dell'Unione simile a quella di uno Stato federale integrato il Parlamento europeo oggi è solo informato grazie all'accordo interistituzionale delle misure e dei progetti che verranno attivati ma naturalmente se questo il sistema verrà confermato si può pensare una co-decisione la riforma del MES certamente non arriva ancora al rientro del MES nell'architettura costituzionale dei trattati però ci si può pensare e così dicendo insomma le ha dette queste queste linee diciamo di sviluppo l'ha già indicate Paola quindi non ci resta diciamo che in questo senso cercare di premere approfondire portare a sistema razionalizzare soprattutto rendere più eco questo processo di sviluppo che in qualche modo è prefigurato anche se è ancora incerto perché sono certamente misure che ancora valgono solo per l'emergenza contemporaneamente chiudo su questo l'Unione ha attivato un percorso parallelo in modo che questo progetto di salto di paradigma risulta piuttosto coerente con quanto in genere fanno gli ordinamenti costituzionali nazionali vale a dire questo famoso piano di implementazione del social pillar che è un piano strettamente a carattere costituzionale perché il social pillar è una specificazione della carta dei diritti fondamentali e quindi ha natura costituzionale perché la carta comunque ormai e diciamo molti suoi articoli direttamente applicabili da parte di tutti i giudici dell'Europa è stata diciamo richiamata in tutte le iniziative che concretamente ha adottato la commissione europea in questo progetto di implementazione in cui da qui al 25 sono stabiliti passo passo quello che si deve fare quindi secondo me ragione Franco che si delinea diciamo la volontà dell'elite europee di strutturare un ordinamento diciamo in cui la nuova capacità fiscale economica monetaria dell'Unione è resa coerente con istituzioni tendenzialmente democratizzate e con un piano di salvaguardia dei diritti sociali diciamo più o meno omogeneo a quello che conosciamo negli stati costituzionali più avanzati occidentali a questo punto appunto io vi direi a continuare a discutere se questi passi in avanti sono fatti a socializzare diciamo l'accadimento però quello che trovo è che debba cambiare per forze radicali progressiste e democratiche la narrazione rispetto all'inizio del terzo millennio cioè nel senso che questo tipo di progetto non può essere più combattuto in nome di un disallineamento dalle linee costituzionali dei paesi più progrediti come grosso modo alcune forze all'inizio negli anni duemila duemila uno duemila due hanno fatto con la carta dei diritti fondamentali nel senso che l'Europa a questo punto si rende un sistema costituzionale più organico più accettabile più eco più razionale e quindi non può essere combattuto in nome delle costituzioni nazionali interne per cui ci sarebbe un'ontologica diciamo superiorità ad esempio della nostra costituzione che poi è basata solo sul dato letterale certo non sulle politiche costituzionali cercando di entrare nel merito come faceva Silvano ma una nuova competenza per seguire i tuoi discorsi poi ci manderei dei testi cioè di entrare nel merito delle strategie che l'Europa mette in campo sapendo che comunque questa cornice se andrà a buon fine questo progetto è comunque un progetto storicamente molto importante che deve cambiare le narrazioni politiche delle forze radicali che a questo punto possono giocarsi la carta europea perché hanno un'intelagliatura che comunque è ragionevole diciamo consente il conflitto consente la critica radicale consente l'approfondimento anche delle delle proposizioni diciamo costruttive di articolazione di questo progetto quindi effettivamente siamo in un momento di transizione che spero sia diciamo una transizione positiva grazie non ho segnati altri interventi ma chi vuole può farlo direttamente se non ci sono altri interventi darei la parola a c'è nessuno non vedo se darei la parola a Paola prima di chiudere a Musacchi Paola sì volevo soltanto dire un paio di cose rispetto a quello che avevo detto prima una riguarda l'intervento di Silvano allora il famoso recovery plan in generale e poi faccio riferimento a quello presentato dall'Italia l'abbiamo visto è stato presentato in Parlamento è stato pubblicato adesso ieri sul sito del governo non so se è una nuova versione spero di no però diciamo la versione inviata alla commissione questo documento però è un documento che non contiene cioè è un documento molto grande e più che altro discorsivo diciamo oltre che dire i titoli dei investimenti e delle riforme con l'importo vicino ma non contiene tutto il lavoro che comunque è stato fatto alle varie amministrazioni sulla base dei dei formati richiesti dalla commissione tabelle di tutti i tipi fra i quali per esempio una tabella che con riferimento a ciascun investimento fa riferimento appunto al regolamento sulla tassonomia di cui parlava prima Silvano e in particolare alla capacità di cioè alla diciamo all'assicurazione che gli interventi proposti che gli investimenti proposti non do not significant harm e cioè non apportino danni sostanziali all'ambiente sostanzialmente per cui ogni intervento è stato disegnato anche sulla base di questa cosa e poi sulla base dell'impatto sull'occupazione e poi sulla base dell'impatto sul bilancio degli stati ci sono una serie di di tabelle Excel che sono state compilate e che però non sono pubbliche sostanzialmente e quindi questa cosa un po' impedisce anche la capacità dal punto di vista del pubblico diciamo di leggere effettivamente il recovery plan dell'Italia e di poterlo valutare di poterlo discutere di poter anche intervenire al riguardo invece l'altra cosa non è stato sì l'ha menzionato prima Tapi il pilastro europeo dei diritti sociali e il piano d'azione presentato dalla commissione che sarà presentato nel summit di porto il 7 cioè domani su questo c'è anche da dire che la politica di coesione 21-27 dell'Unione è organizzata intorno a 5 obiettivi uno di questi obiettivi il quarto è proprio l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali cioè un'Europa più sociale più inclusiva attraverso l'implementazione del pilastro europeo dei diritti sociali e quindi una quota importante dei circa 330 miliardi che a livello europeo tutti a fondo perduto sono stati messi in campo per la politica di coesione dal 21-27 un periodo un periodo più lungo del recovery sono destinati proprio all'implementazione di azioni che dovrebbero rispondere al pilastro europeo dei diritti sociali e per il raggiungimento degli obiettivi che si propone questo piano obiettivi che adesso non siamo qui a ragionarci ma che sono molto 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 sfidanti sia rispetto alle medie europee ma soprattutto manco a dirlo quelle italiane e quelle in particolare del Mezzogiorno grazie Paola ha chiesto un intervenire Paolo Ferrero per cui chiedo di essere conciso brevissimo brevissimo non tengo il video per ragioni di di rete ma intanto diciamo vedo che c'ho degli estimatori diciamo dal punto di vista estetico per lo meno e no intanto volevo ringraziare i nostri relatori le nostre relatrici perché siamo a distanza ma insomma hanno fatto un ottimo lavoro e li volevo ringraziare e secondo volevo dire che credo che questa questo cogliere un cambio di governance e anche qualche elemento in più diciamo e che le relazioni ci descrivono che ha elementi di accelerazione col covid ma che nascono prima come segnalava sia Silvano che Paola che Franco penso che sia il punto vero allora su questo converebbe forse ragionare su come facciamo una sorta di monitoraggio che dura nel tempo perché si tratterà di vedere come prosegue questo fatto secondo mi chiedo se è possibile diciamo come Sinistra Europea abbiamo messo in piedi una rivista che ha fatto il primo numero si chiama Questioni e io ho chiesto per il secondo il secondo numero verrà fatto su le modifiche dell'Europa e le nostre proposte tra i materiali che producono degli elementi di conoscenza ho chiesto un articolo a Franco russo un articolo a Paola e volevo cogliere l'occasione diciamo in pubblico per chiedere a Silvano se aveva voglia di mettermi giù la cosa che ha detto in una forma diciamo non comiziale ma di articolo ma lo era già nel senso che era iper scientifico era rosso ed esperto diciamo il suo intervento o verde ed esperto voglio qui discutere tutti e due e se potesse scrivere anche lui perché è un altro pezzo di conoscenza che è utile portare lì dentro perché la discussione che c'è sino ad oggi nell'ambito della sinistra europea ha positivo su che cosa fare nel momento in cui il ballerino capitalista fa dei giri di waltzer piuttosto rapidi la discussione è piuttosto bassa e quindi mi riterei già soddisfatto se riuscissi a portare dall'Italia un po' di contributi di elementi proprio conoscitivi che dislochino la discussione politica perlomeno sul terreno effettivo che ha scelto le classi dominanti dentro la crisi della globalizzazione o nella macro regionalizzazione dell'accumulazione capitalistica in modo che discutiamo di verità quindi chiederei a Silvano poi ci sentiamo se mi può fare un pezzo e da ultimo lo dico solo per così diciamo a Papi Luanzini che dice vista questa situazione è ovvio che il terreno è europeo io penso che il terreno sia europeo però non ci deve sfuggire e questa governance non ha nulla antidemocratico nulla di permeabile alle istanze sociali non che non lo sia al fondo perché al fondo qualsiasi pianta se la scuoti abbastanza vengono giù le mele ma certo è pensata per non esserla permeabile e quindi è una governance iper autoritaria da questo punto di vista io credo che bisogna fotografare con molta attenzione la dinamica coglierne tutti gli elementi di modifica senza essere appunto con l'idea che il capitalismo è sempre uguale a se stesso perché è falso ma non bisogna fare dei cortocircuiti come se avessimo conquistato assieme a una qualche elemento di politica e di governance di politica economica e di governance europea anche una costituzione effettiva perché non è così drammaticamente siamo al modello diciamo dell'intervento pubblico in economia senza i contro diciamo i bilanciamenti della possibilità dell'intervento della società dentro la politica però questo è un ragionamento che non è al centro delle nostre attenzioni che sono analitiche mi chiedevo ma qua forse esagero e finisco se negli elementi di analisi che noi facciamo che voi fate soprattutto forse dovremmo provare ad allargare anche un po' alle forme delle soggettività sociali perché perché è un pezzo che 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 forse sarebbe utilissimo riuscire a fare mi chiedo se siamo in grado però adesso siamo sull'oggettività dell'analisi diciamo del capitale delle classi dirigenti mi chiedo se in un futuro non potremo sperare o pensare o cercare di allargare un po' il nostro lavoro anche su un altro terreno detto questo finisco ringraziando ancora i relatori per l'ottimo lavoro che hanno fatto ciao grazie grazie Paolo allora io chiederei a questo punto a Silvano e a Franco Russo se vogliono fare una piccola nota una replica alle questioni sorte oppure io mi rimetto a Roberto perché le cose da dire le ho dette poi ho ascoltato ringrazio Papi diciamo per l'incoraggiamento che ci ha dato sull'osservatorio poi volevo solo fare una proposta però la rimetto nella discussione nell'email volevo dire cioè se non possiamo pensare a un nuovo appuntamento anche senza la fatica che abbiamo fatto adesso per per il primo anche se è riuscito mi pare proprio sul social pillar cioè dopo il set secondo noi possiamo affidare a Papi o insomma una discussione su questo punto sarebbe interessante però ripeto la scriverò per email precisandola nei giorni prossimi grazie io pure mi rimetto a Roberto alle sue conclusioni e poi magari mi metto d'accordo con Franco per per l'articolo chiedo a lui il come e quando grazie allora la parola a Roberto Musacchio naturalmente per il tipo di lavoro che facciamo non sono delle conclusioni ma sono innanzitutto anch'io un ringraziamento a nome di Transform di averci scelto anche come interlocutori di questo lavoro di osservatorio che riprende diciamo anche la capacità di una relazione che era un tempo consettinaria tra di noi e che fu sempre positiva insomma io penso che proprio questo elemento anche di indagine continuativa che non viene fatta anzi a livello di mass media proprio non esiste è un contributo assolutamente fondamentale importante che possiamo portare sono molto contento anch'io degli apprezzamenti che vengono da Papi ma insomma anche dalla presenza perché c'è stata una presenza sia di persone che compagni che stavano qui con noi in chat che persone che ci hanno seguito e poi questi materiali rubando un po' in anticipo su Ferrero che si riprende scritti io penso che invece noi le relazioni le separiamo e le mettiamo dentro Transform come sito e le mettiamo a disposizione anche di altro di voglia pubblicare perché sono state molto buone molto belle hanno descritto benissimo diciamo quella che al mio punto di vista è sostanzialmente una fase di strutturazione capitalistica che cambia il paradigma rimanendo all'interno naturalmente della condizione capitalistica in cui noi noi siamo diciamo che anche questo elemento che veniva proposto da Franco all'inizio con la citazione di Monet la metto tra Schumpeter e Draghi sostanzialmente questa idea della capacità distruttiva creatrice del capitalismo è sempre all'ordine del giorno e ora dal punto di vista economico finanziario come l'hanno descritta Franco Russo e Paola Boffo e dal punto di vista di modelli produttivi e come l'ha descritta Silvano Falocco mi pare già due contributi fondamentali di mio provarei a proporci che dopo questa questione del pilastro sociale che oramai è stata avanzata e quindi lungitamente metterla in discussione proviamo ad avere una lettura un po' più come si può dire anche organica e documentata su questo tema della democrazia su cui abbiamo avuto poi alla fine uno scambio breve ma interessante tra Bronzini e Ferrero a me è capitato recentemente per la concorrenza di transforme che è left scherzo con Roberta Morea di fare un pezzo documentato sulla situazione della democrazia nel mondo e in Europa dopo un anno di pandemia sono andato a vedere perché ci sono una serie di dossier istituzionali questo non mi ricordo se ve li ho mandati fatti da organismi ufficiali che sono consulenti sia dell'ONU che dell'Unione Europea assolutamente tra virgolette filo occidentali insomma sono di solito quelli che ti spiegano e ti dicono perché c'è la superiorità della democrazia occidentale rispetto ad altre democrazia beh mi ha colpito il dato messo neno su bianco che viene considerato l'anno della pandemia l'anno in cui c'è un peggioramento sistematico delle condizioni democratiche in tutto il mondo lo dico esplicitamente questa volta è trasversale ci sono cose anche che uno può vedere in un modo o nell'altro insomma ma il fatto che per esempio l'Italia abbia il record mondiale insieme alle Filippine di stato di emergenza eh propagato può lasciare indifferente perché uno ritiene che quello sia funzionale al fatto che bisogna affrontare la pandemia però è una cosa che colpisce che significativamente colpisce e quindi anche il modo con cui sono state affrontate io che sono uno assolutamente a favore dei lockdown insomma le restrizioni anche perché diciamo su questo poi c'è una anche una discussione eh che dobbiamo fare in termini analitici ma anche tenendo conto di alcuni dati politici per esempio nelle elezioni di di martedì di Madrid eh questo tema ha pesato molto nella vittoria della destra eh questa storia diciamo delle eh delle aperture che è stata cavalcata dalla destra e siccome peraltro in Italia questa destra è all'interno della maggioranza governativa eh diciamo se vogliamo guardare anche a quale prospettiva all'Europa questo elemento eh politico che discende però appunto dalle dinamiche come quelle democratiche che si determinano è un elemento di cui dobbiamo ottenere eh per continuare su questo tema io ho sentito anche la conferenza dei socialisti europei dei pezzi l'altro giorno partecipava Letta la proposta centrale che fa Letta è quella eh che eh si decide a maggioranza dentro il consiglio ora eh francamente eh è questo la risoluzione delle questioni lo dico perché noi oggi siamo in una situazione che dal vivo ci fa vivere in tempo reale questo tema della eh decisionalità e della permeabilità cioè noi abbiamo avuto una settimana fa un dibattito del Parlamento europeo in cui eh tutti i grandi gruppi che fanno parte della maggioranza di Ursula von der Leyen più la destra hanno bocciato l'emendamento presentato da The Left di emendamenti sulla questione del del moratoria sui caccini e poi succede che parla Biden e oggi c'è una trafila francamente come si può dire non sai se ridere o piangere anche se io aspetterei prima di capire che cosa per capire che cosa succede uno che ci sia un pezzo di carta come quello che ho visto pubblicato dal dall'ambasciatore l'ambasciatrice degli Stati Uniti al VTO che l'ha scritto un pezzo di carta che loro propongono ho visto tantissimi twitter non ho visto pezzi di carta da questo punto di vista eh ufficiali quelli con il bollo e poi anche capire il meccanismo come si determina ho visto che c'è una eh difficoltà apposta da Merkel e da Itnes per come capisco io al di là del fatto che molti dei brevetti stanno in Europa e non gli Stati Uniti per come ho imparato a conoscere la signora Merkel è una che tendenzialmente si fa decidere dagli altri quello che lei ha già deciso di fare però è una mia previsione politica con col tema eh quindi perché noi rischiamo no? da una parte una cosa che mi colpisce che c'è molto qua in Italia ormai no? cioè l'idea che solamente i potenti possano decidere e quindi ha deciso Biden meno male e però lì siamo dentro un sistema politico istituzionale certo per dire una cosa di politica io non sottovaluterei l'accordo politico che è stato fatto con la sinistra socialista di Sanders per arrivare alla presidenza Biden e mi pare che lì c'è una cosa che qui abbiamo dimenticato eh dai tempi dagli accordi con Proti che finivano mh nella carta straccia e che le elezioni presidenziali americane sono state precedute da una serie di commissioni fatte eh per i vari punti di programma che poi Biden dove applicare e questo è uno dei punti insieme al salario insieme alla questione fiscale peraltro Sanders è il presidente della commissione finanze del 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 Senato però già mi dà l'ansia che deve decidere Biden perché altrimenti come 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 è logico che sia ancora peggio in Europa dove sono capacissimi di decidere quando c'è la questione dell'austerità ma meno capace di decidere se non arriva l'input eh in questo senso sono eh del eh esterno diciamo così eh per quanto si riguarda invece eh un cambiamento importante come questo quello sulla eh sulla questione dei brevetti e dei vaccini c'è un sistema che rischia di essere eh contemporaneamente eh come si può dire eh rigido e inefficiale però il tema c'è e io chiederei di affrontarlo questo tema io che sono per una soluzione parlamentare penso che noi dobbiamo proporre eh in modo alternativo a quello che dice Letta eh cioè quella della si vota maggioranza nei consigli e nel consiglio invece una una logica parlamentare tra parlamento europeo e parlamenti nazionali che si porta appresso precisamente quello su cui anche da ultimo Ferrero diceva cioè la costruzione dei soggetti eh intermedi dei corpi a livello europeo quello per cui lavoriamo sempre eh come traspi cioè partiti eccetera eccetera e anche vedere un po' meglio la seconda rapidissima e dobbiamo fare un punto anche eh diciamo perché c'è noi abbiamo pubblicato moltissime di queste cose qui dall'inchiesta di della del gruppo di lavoro di Piccattini a tante altre eh quanto è cresciuta la diseguaglianza sociale eh che è veramente enorme e spaventoso e francamente spaventoso eh io poi che penso che non è che l'altra volta i soldi non sono usciti sono usciti tantissimi eh ci sono i bilanci di quanti soldi sono usciti dalla BCE durante la crisi del duemila e otto duemila e nove duemila e dieci eh il risultato di quegli investimenti che naturalmente avevano un paradigma una condizione diversa da quella attuale quindi lungi talmente non 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 verificare che c'è un altro paradigma eh però è stata una crescita della diseguaglia sociale eh stamattina appunto sentivamo il futuro di Madrid eh insomma tutto il piccolo centro eh commerciante eccetera eccetera è a base anche della vittoria del partito popolare e quello che sta succedendo in Italia il governo centrodestra sinistra eh con forti con lateralità tra partito democratico e lega dal punto di vista dei interessi rappresentati eh mi fa pensare che c'è appunto una via che viene proposta dall'Italia probabilmente perché qui non è che abbiamo a fare il presidente del consiglio un un personaggio di secondo terzo livello dal punto di vista della politica europea la mia previsione è che probabilmente resterà a fare il presidente del consiglio con una proposta diciamo eh di 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 base politica larga eh che 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 avanzerà anche in Europa probabilmente vedremo un po' che cosa non succede però detto questo mi taccio eh questa proposta dunque la formalizzo anch'io poi per mail ringraziamo nuovamente tutti che affrontiamo un po' questo tema democrazia istituzioni eh in modo organizzato in uno dei nostri prossimi incontri grazie ancora grazie grazie ancora a tutti voi a chi ci ha seguito via Facebook e come ha detto perdonami quanti ci hanno seguito via Facebook se lo sai non si dice adesso in diretta perché nel senso che noi siete sempre trasparenti e onesti no è facili ci hanno seguito diciamo alcune decine di persone ma detto questo non è assolutamente inutile perché questi video poi vengono ripresi nel corso no no ma era solo per curiosità no ma poi banalmente non so io l'ho condiviso sulla mia pagina quella non viene conteggiata cioè il meccanismo io l'ho condiviso per esempio scusate l'ignoranza immediatamente da trasforma che siamo una piccola cosa arriviamo immediatamente sopra le mille visualizzazioni abbondantemente sopra ritengo sui più bassi comunque fatte questo volevo dire noi comunque questi materiali li potete trovare comunque sul sito di Transforma Europa dove abbiamo Transforma Italia dove abbiamo creato uno spazio apposta per questo osservatorio e continuiamo a tenerci in contatto e il suggerimento di mantenere questo appuntamento se vogliamo di approfondimento mi sembra utile e ringrazio anche io i relatori Paola Silvano tutti voi per aver partecipato e vi invito comunque a continuare a seguire anche Transforma Italia che è anche parte di una rete europea e quindi questo ragionamento sui percorsi che l'Europa sta facendo possiamo se pensiamo sia utile anche allargarli ai nostri partner europei e quindi invitare anche chi sta seguendo per esempio per noi il cammino del futuro dell'Europa o chi in commissione parlamentare sta seguendo le varie vicende quindi ancora grazie grazie a tutti voi e alla prossima arrivederci arrivederci ciao arrivederci ciao ciao